Partendo dal presupposto che i numeri si lasciano interpretare più di un testo shakespeariano e che di conseguenza giova non preoccuparsi in certi casi e non esaltarsi in altre circostanze, i risultati del sondaggio sulla qualità della vita del Sole 24 Ore fanno decisamente tirare un sospiro di sollievo alla città che poche settimane fa, nell'analoga ricerca di Italia Oggi, annaspava la posizione numero 51. Oggi dunque in quella che è considerata la graduatoria, Trieste risale di 24 posizioni rispetto allo scorso anno, piazzandosi al decimo posto. Udine la precede di un gradino, lo scorso anno era diciottesima. Pordenone scala la classifica dalla sessantesima alla diciassettesima posizione, Gorizia rimane stabile al diciannovesimo posto. Scorrendo come sempre le singole voci che caratterizzano la ricerca, Trieste si piazza al primo posto per quel che riguarda le spese comunali a sostegno dei cittadini e per le start-up innovative. A Trieste si sa i prestiti si pagano, quarto posto, e i risparmi in banca sono consistenti, quinto posto, lo stesso occupato per quanto concerne i flussi migratori sul territorio. Gli indici negativi per i quali Trieste è ultima riguardano il rapporto fra anziani e giovani, e non si tratta di una novità, e la mancanza di spirito di iniziativa, ed anche questo è un dato risaputo. Male anche per densità demografica, imbrogli, contenziosi civili e propensione ad investire. Uno sguardo generale che divide il sondaggio in sei macro categorie, ognuna delle quali suddivisa a sua volta in ulteriori sei indici, consente a Trieste di piazzarsi al terzo posto per quel che riguarda reddito, risparmi e consumi e servizi ambiente welfare, al ventiquattresimo per cultura, tempo libero e partecipazione, al ventiseiesimo per affari, lavoro e innovazione, all'ottantaquattresimo per demografia, famiglia ed integrazione. Il quarantunesimo posto occupato da Trieste nella macro area giustizia, sicurezza e reati è quello che si presta ad interpretazioni le più varie, essendo Trieste una città dove storicamente i reati si denunciano, rendendone più facile il computo che in altri luoghi e in un certo senso falsando i dati.